allora ragazzi vi voglio mostrare questo spazio di 650 metri quadri come potete vedere è enorme beh giusto per rispondere a tante persone che mi dicono vai a lavorare io non ho mai dimenticato il mio lavoro questo spazio noi costruiremo centro fitness estetica benessere e ci sarà tutta una zona diciamo legata al dimagrimento stiamo partendo a breve con i lavori come vedete è vuoto inizieremo a breve e avremo tanti progetti e tante belle cose da fare ora ve lo muovo e del fitness e centro estetica centri narciso siamo sempre insieme ero ciao buona domenica aspettate ora vi mostro anche l'ingresso da fuori questo è il primo ingresso camminiamo questo è il secondo ingresso 650 metri quadri area fitness estetica benessere tutto perché lavoriamo non ci dormiamo mai eh guardate dove ci troviamo